Siamo sopravvissuti a tutto questo per cosa? Per continuare a combattere e a ucciderci a vicenda? Vedi quando si tratta di me? È solo questione di tempo prima che tu prendi la stessa decisione. Mackie! No! Arrivano! Tenetevi pronti! È un onore per me stasera presentare qualcuno che non ha bisogno di presentazioni. Il governatore del Commonwealth, Pamela Milton. Grazie ai sacrifici di mio padre, siamo tutti qui. Stiamo ricostruendo insieme il mondo com'era. Non si torna. Siate pronti. Indietro. Stiamo per ricostruire il mondo. The Walking Dead. La stagione finale continua. Disponibile in esclusiva dal 21 febbraio su Disney+. Capitolo. given Więc. Adesso. Kitolo.